Quindi questa triangolazione consentiva sostanzialmente all'info un po' di chiamare il giornalista e dire così non va, tu stai dicendo nelle soglie, noi diciamo che le cose sono diverse da quelle che scrivi tu ora già immaginare che un paese c'è un libero, un giornalista che si sente chiamare e dire no, tu stai scrivendo le cose non te, tu stai chiamando che fai, che significava la diffida e l'amolizione significa l'attemunio all'escursione, ora l'escursione non era una cosa seria per un giornalista perché intanto per il giornale dove trovare un altro giornalista da sostituire, beh non era facile perché in genere che veniva in Italia aveva già una vaga conoscenza della storia italiana c'era già stato un po' di corrispondente passante durante la guerra e quindi in un certo senso il giornale si voleva in grado di sostituirlo, spesso il giornalista sta dalla famiglia, insomma era trapiantato, era radicato nel paese che lo ospitava, quindi andare via non era cosa da continuare a conto quindi spesso il giornalista cerca in qualche modo di far si aspettare, quindi si assiste spesso a un gioco, come si sa, il topo e il piatto insomma, il giornalista cerca di riscrivere delle cose, quello che vede però di non irritare più tanto il reggine perché il timore è quello dell'escursione, sente se non guardate in questa categoria, sente se scrive esattamente e dice quando si arriva al primo anno, al primo anniversario della morte di Matteotti, dice esplicitamente, un suono di amicurano gli api di macchiare del sangue del denutato socialista, lo dice esplicitamente, a questo punto Dino Grandi che è solo segretario agli esteri, chiama sempre, si chiama l'ambasciata che non ci pica sempre segnandarsene perché non è più un personaggio, è sempre sempre, era anche questa inizione, e ce ne sono tante altre, ma il diritto Matteotti sempre sempre segnandarsene di Trump, perché il rivelò il fascismo, come lo rivelò a tanti che erano pieni diversi leggi, perché poi furono costretti a prendere posizione e a capire, ma il resto dei giornalisti, sempre quasi, il giornalista è un rilevista, ma non accade a nulla, cioè il diritto Matteotti non viene mai trattato, non viene mai trattato, c'è un grande intellettuale americano che viene in Italia, Lincoln Steffens, grandissimo intellettuale, c'è un carteggio che stanno scendendo, che stanno pubblicando, dice, qui corre voce che sia stato un solito di andare in Italia, ma io non ci credo, ma qui, insomma, quei quattro mascazzoni che gli stavano intorno, insomma, l'interpretazione, diciamo, più bucorana, più favorevole a Mussolini che era quella che poi, come dire, in qualche modo, trasmettevano gli stessi fascisti, cioè a colpa di questi quattro mascazzoni, quattro delinquenti che hanno agito, quindi loro fanno, maggiore esercita un fascismo su questi personaggi, esercita un fascismo, cioè il fascismo che dice, se questi uomini che vengono poi in Italia, che lo incontrano e poi ne raccontano, loro chiaramente cercano di fare dei paraconti con personaggi della storia loro e in genere la cosa paradossale è che quando parlano di Mussolini, infatti, parlano contro Roosevelt, non con Franklin, ma contro Roosevelt, perché era un presidente decisionista, uomo deciso, uomo d'azione, che si muoveva, quando c'era un interesse del Paese, si muoveva sessi che inaugurano il regime al partito unico, quindi quello di regime al partito unico, quindi quello di regime al partito unico, loro lo vedono come, come dire, qualcosa di temporaneo che serve a un popolo come quello italiano che è un popolo fondamentalmente anatico di soldi, quindi di un uomo deciso a dirigere le soldi. Ecco, questo è quanto loro loro raccontano. E purtroppo io ho dovuto ricercare che anche quelli che in America avevano invato una posizione di, come dire, anticapitalistica, se volerà, i giornalisti libri che si erano spesi in una battaglia contro il capitalismo selvaggio nell'inizio del secolo, contro le corporation, e questi sono libri neanche che raffascinati dalla figura di Mussolini. Faccio un esempio per tutti. Questi sono corrispondenti a viaggiare, che vengono, l'intervista Mussolini, che tornano estremamente scritti. Ci sono, ce ne sono due che danno il segno a chiedere perché di questa posizione, che sono una donna in catarbe, per questo non posso dire il vero, perché io l'ho seguita negli anni dieci, questa donna, una donna coraggiosissima, una giornalista di grande volso, è sostanzialmente quella che attraverso una storia della Standard Oil, cioè una storia del petrolio americano scritta da lei, che è ancora un libro importante, lei aveva costretto il Presidente Taft alla legge antitrust, aveva costretto il Presidente americano a fare una legge contro il trust, contro le corporazioni. Quindi una donna quasi socialista, quasi socialista, sicuramente una democratica convene a tutti gli socialisti. questa donna viene nel 26 d'Italia, perché sta Mussolini, francamente, scrive intorno all'esterno, scrive questa rivista, le conto, sono chiamate, una rivista importantissima, che circolava tra le donne e solo gli americani. è imbarazzante, è imbarazzante, è imbarazzante quello che si, si legge che Mussolini, sembra quasi un complesso non realizzato, non consumato, fascinante. E' questo uomo Gaat, che lo conosco lui, quando trovava la donna, lei faceva di Gaat, Gaat e lei è sensibili a questo. Torna negli Stati Uniti e scrive questi cinque articoli. Ha detratto tutto l'evento che ha cambiato la storia del mondo e scrive questi segni. Una attenzione, questa era una rivista che è circolata da molti idiomi di lettori, di lettrici, soprattutto, di lettrici. In Natal è una di queste che un po' rimane affascinata, che un po' rimane affascinata questo segno, un altro di questi che era stata antica metalista, diciamo, negli anni dieci. Questi giornalisti negli Stati Uniti sono molti, questi giornalisti bestiali, che avevano queste posizioni antica metalista, sono molti per essere stati chiamati i Macrables, i spalatori di lettari. Perché? Perché il loro giornalismo era il giornalismo che si sporcava dall'anno, denunciava quello che c'era di abbietto e di arormare nel capitalismo selvaggio negli anni dei finali del Novecento, e quindi in un certo senso andava a spavare illegali. E erano socialisti in base. A questa categoria, D'Archie, come anche altri grandi scrittori, un Apto Sinclair. Apto Sinclair descrive dei libri importantissimi, uno di questi è la Giunta del Giallo, prodotto anche, tra l'altro, è uno scrittore che ha scritto il petroliere Oyl, il petroliere del questo frattore film, poi, anche di ricette. Lui denuncia che cosa c'è dietro il petroliere, dietro il petroliere, che quel nome arriva a scrivere del Giallo, scrivere del Giallo, che quello che sta accadendo nel famoso mattatorio di Ciccato, costringendo con il suo libro del Giallo, costringendo a una riforma e a una, come dire, ristrutturazione del mattatorio su altre basi. Quindi è gente che è degnata, pubblicamente, socialmente. Eppure questi vengono in Italia, perché Mussolini riesce ad ingannarli. In che senso? L'inganna il suo passato di socialista. L'inganna il fatto che, quando lui parla di quello che intende fare, non dimenticare di dire che la sua è una sorta di terza via. Questo è un punto molto importante. Di una terza via che non è né quella capitalistica, che c'è in vista più meglio, che lui vuole da dire, né quella di Mosca, comunista. E' una terza via che poi, negli anni trenta, viene definita volgamente il, voglio dire, il sistema culturativista. L'evoluzione, diciamo, è una sorta di progetto politico, non si è concluso, rimane tutto sulla carta, che intende abolire dalla vita di un paese la volta di classe. Sostanzialmente, il sistema culturativo è questo. Cioè, prima che i confronti di classe esplodano, noi troviamo il mondo, troviamo un posto fisico, un pannamento, qualcosa, dove i capitalisti e i rappresentanti della classe ugliaia si incontrano per una soluzione mediata che eviti lo scontro, eviti il conflitto, perché questo è contro gli interessi della nazionale. Per cui, la via culturativa, diciamo, ecco, era questa. Quindi lui, quando parla con me, vai da darmi, ma guarda con sempre, questo con me, dice, non, non è quello che c'era più socialista, per me, voglio dire, però, io intendo di sessare queste cose, prima, a monte. E quindi, con un esempio, questo sistema culturativo, lo propagandano. che, se vedete, vede i condici. Tant'è che, con i club, quando esce dall'interno del conto, guarda che intatteva il cuore, intatteva forte. Ora, guarda qua, quella risposta che lui andava cercando, negli anni dieci, negli Stati Uniti, come mettere in qualche modo una cosa nuova al capitalismo? Come rendere più umano il capitalismo? Eh, Mussolini l'ha trovato. Quindi, in un certo senso, infascina, esercita Mussolini e infascina un uomo ambico, che si sta muovendo a destra, ma fa vedere che lui a sinistra non ha dimenticato certo. E con queste persone funziona. Quindi gli anni venti sono anni in cui Mussolini riesce a giocare questo doppio ruolo. Con la stampa, ma guardate come fa solo la stampa americana, in Italia con alcuni ex socialisti in questo periodo riesce a deglutare, lo sta facendo a puntare con gli spezzoni del socialismo. Io vi ricordo di come per tutti i compacci, fondatori addirittura del Partito Comunista, che lo ritroviamo alla fine degli anni venti, per insegnare in reta, lo ritroviamo che sta pubblicando una rivista fascista delle culture. Quindi, non è solo quello. Ci trova addirittura con Emilio Galdada, uno degli ultimi sindaci socialisti di Milano, con qualcuno dei suoi fedeli che ci riesce. Lo ritroviamo nelle file fascisti. Quindi, questa pompiezza, diciamo, un sogno, è una pompiezza che funziona all'interno, ma funziona anche verso una serie di giornalisti americani. In mani vento, l'avventura, noi abbiamo negli anni venti, abbiamo avventura la Chrysler, che manda un suo voto importante, un altro che dice, proponendo a Mussolini incidere un disco, che avrebbe dovuto, poi, avere una forte situazione degli Stati Uniti, dove Mussolini avrebbe potuto raccontare che cos'è il fascismo. E lo fanno su un disco di piedi, che è realizzato nel 1927-1928. Questo disco ha una enorme diffusione. Io ho trovato, in alcuni momenti, parlano di tre, quattrocent'olio a piedi di disco, che circolano dagli Stati Uniti, vengono venduti. Più in l'altra, non viene mai film. Verranno giornalisti con una vocazione anche all'alto documentario. Io vi ricordo un altro giornalista importante, che qua basterà in New York Times, questo Hallinger, che farà una giornata della vita privata di Mussolini. Lo seguirà, lo riprenderà in Mussolini. Naturalmente esce Mussolini di Bonaccio, padre di famiglia, che va a casa, che parla con i bambini, con i figli, poi di Tansford, eccetera, che poi, se io sono stato lì alla celebra mia, con un uccipito di quello che è stato, insomma, esce la propaganda, sostanzialmente. Il propaganda di Stati Uniti è stata un'altra. però, anche in questa avventura, diciamo, lo proiettano nelle sale di Cana. E c'è quello che aveva trovato. Il risultato mi mandava questo Hallinger al piccolo pop, dicendo, e poi abbiamo entrato in quella sala, sono stati entrati, insomma, mille persone, andiamo a incassare il tono, perché poi, se io sono andato anche Mussolini, la famiglia andava veramente poi alla cosa. Quindi, Mussolini è un uomo popolare. è un uomo popolare perché ha evitato, ha evitato, l'esperienza soliturica. Perché noi vediamo, addirittura, ci sono cose che adesso fanno solibere, ma dette, dette, scritte, infatti circolate, ma molto grave. Ah, viene un altro giornalista, e dice, ma questo, tra i stelle. Dice, beh, vedo che i treni funzionano, un vecchio barzelletto. Poi ci siamo andati, le strade sono rubite, vedo che non ci stanno vagaboni, e quindi questo ha risolto. Cioè, non si comodano un problema, non fa niente da parlare. No, diciamo, nella peggione delle cose, ci ho visto che qualcuno storce un po' la bocca, a guardare la voce, a parlare, ma è evidente. Cioè, non si comodano, perché non vuole parlare, perché ha paura, che magari l'arrestano, oppure venga sull'eserci, eccetera. Però, questa è l'immagine che questi uomini hanno. C'è un altro grande, grande giornalista, Irving Kopp. Poi, se ti divertite, andate a vedere, in Google, vedrete, sono nomi che a noi non dicono ancora nulla, perché, ripeto, io credo che la mia, la mia ricerca sia abbastanza più avvia distinta, e quindi, sono cosi, mentre a noi ci puoi fare bisogno, fatosamente, ma questi sono nomi notissimi degli Stati Uniti. Io quando ho presentato, faccio una piccola dimensione, io ho fatto una presentazione del mio progetto di ricerca, l'ho fatta in due otre università medicare, un grande, grande interesse, un grande interesse, perché poi mi dicono, alla fine, diciamo, questa è la nostra storia, non la conosciamo. Perché noi questi nomi li conosciamo, in un certo modo, li conosciamo qua, quando lavoravano qui e scrivevano qui, non li conosciamo quando dicevano cosa dicevano, cosa facevano. Quindi questo è un incontro, addirittura, è un democrazio, una persona che, in qualche modo, ama l'ambertà, ed evitare di far mani ammonti, di farsi vicenda, un sogno di qualcuno. Dice, ho visto Dio, ho visto un miracolo, ho visto un uomo che, la sua passione, nel nostro paese, è una passione che non si consuma mai, addirittura è una dinamica, è una dinamica. Ecco, queste sono le cose che andavano poi tornando, dicevano, in diciamo, riguardo alla custodia italiana, il proprio regime. Quindi, non stupisce che, vuoi dire, la popolazione italiano-americana, poi, in qualche modo, fosse un migliorso nelle regime fascistiche. Perché, tutto questo non significa che si chiama, una cumulare, diciamo, indiretta, un prestigio anche, una sorta di abitazione, diciamo, a questo tanto vederato un po' italiano, ecco, adesso, arriviamo, arrivano talità, da segnare, che questi americani, non c'è anche a dire che, invece, siamo un po' serio, un po' importante, che abbiamo un uomo che ci dirige, che dirige, che tutto, come dire, suscita grande rispetto. Quindi, c'è una ricaduta molto importante, che andremo, come abbiamo esaminato, attentamente, perché questa è anche poi, che fa parte della storia di un paese di America, di America, di un paese americano, che questo prestigio consente, qualunque americani, di, come dire, in qualche modo, un diffondersi dei fasci italiani all'estero, dei fatti di tutti gli Stati Uniti, che è impressionante degli anni venti. tra la vedata degli anni venti, e la fine degli anni venti, c'è anche una lega fascista d'America, molto attiva. E qui voglio aprire una piccola parentesi, perché, scusate, perché parlare di questo, non significa toccare un personaggio molto importante, che è Giuseppe Prezzoni. Prezzoni. perché Giuseppe Prezzoni, di grande intellettuale, grande giornalista, ma anche grande modo di cultura, è molto importante per capire questi processi, per capire questi processi di radicamento del fascismo negli Stati Uniti degli anni venti. Perché è molto importante perché le Prezzoni va agli Stati Uniti e lo mandano a dirigere quella che poi viene chiamata dell'Italia Accademia, che era una casa italiana della cultura, diciamo, l'appendice della colombia dell'Università. Anzi, l'appendice dell'impartimento della colombia dell'Università dove si insegnava la storia italiana e la cultura italiana. quindi questa casa italiana della cultura si pone insidiosi con quanto avveniva nell'Università dell'Università 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 e molta della propaganda fascistica passa attraverso la casa italiana della cultura, viene mandato sull'Università e su Prezzolini devo dire che noi studiosi, noi storici ci diamo un po' di visi perché alcuni storici non considerano tutti questi considerano la presione di un fascista fondamentalmente. Ma ci sta altri storici che a mio avviso hanno abboccato alla auto rappresentazione che Prezzolini poi fece il sé dopo. Perché Prezzolini era anche un circo che si è interessato, scettico, però nel fondo fascista il stimatore Mussolini ricordo che Prezzolini era uno di quelli che ospitò e Mussolini negli anni degli anni dieci si conosceva dalla vita tra Mussolini e Mussolini lo manda a New York a dirigere questa casa che sa che ha che fare. Il Prezzolini che scettico dirà pensavo tutti così io dovevo pure in qualche modo sopravvivere insomma però se vuoi leggere bene quello che scrivevo con le mie uscite pubbliche capirete che io non ero affatto convinto anzi a parte meno la categoria dei via fascisti se no in certi momenti si è azzardato anche ai serizi italiani fascisti ecco in realtà il Prezzolini invece fa parte di quella schiena di intellettuali italiani e fanno poi riferimento a questa scuola a questo centro di cultura italiano ne scelta un altro di non di congiare un tantista di non di congiare ci sono questi perché sono gli uomini che mettono in piedi la lega fascista americana la lega fascista americana il che è poi l'anima dei fascisti italiani negli Stati Uniti americani come arrivano questi sono importanti perché molti giovani giornalisti americani che vengono in Italia sono passati alla Columbia University mi ricordo che la Columbia University ha la scuola di giornalismo diciamo ha migliorato io faccio il nome Pulitzer Pulitzer ha fondato la scuola di giornalismo alla Columbia che c'è ancora non la dirige un carissimo amico adesso Alexander Stille questo bibliologo figlio di Stille il grande giornalista nostro ma la scuola di giornalismo della Columbia University è una vera palestra del giornalismo americano i più grandi giornalisti hanno fatto un tirocinio passato spesso attraverso la Columbia University e quindi questa scuola e quindi attraverso gli studi di italiano di cultura italiana e quindi alla scuola italiana di cultura italiana e quindi da prezzo e il lavoro che ha svolto quindi questa di come dire di creare simpatizzanti fascisti tra gli americani tre giornalisti che passavano è molto importante ma studiare io non cercherò di inserire il mio valore ma mi rivederemo lo studentato perché io faccio un nome per tutti e questo è il nome di un personaggio che posava importante nella storia europea ma per la storia giornalismale che si è importante è questo Herbert Matthews è importante perché Matthews è un uomo del New York Times che attiva fino agli anni sessanta settanta che il cui percorso curioso ma è molto importante per capire una storia della cultura giornalistica rispetto al fascismo perché non viene da questa scuola viene in Italia e toga questa scuola è un fascista è un simpatizzante fascista unico è un fascista che merda a tutto l'encoglio della regione va a seguire la guerra del New York Times prende la croce militare di Madone perché esalta le truppe italiane dice che è una guerra è una crociata contro lo stato schiavista eccetera eccetera è un fascista che merda tutto l'encoglio di Madone Herbert Cadetius poi lo mandano in istante durante la guerra c'era e lì lo mandano a seguire le truppe repubblicane di Taddeci Giosi e quindi vede cose diverse vede il buon fascismo vede i volontari italiani il fascismo come si muove i franchisti come si muovono e quindi e poi soprattutto incontra un altro grande scrittore un grande antifascista che incontra solo amici e lui riesce in qualche modo scusate lo posso spegnere dal fastidio quindi diciamo che capisce bene apprende il fascismo lo apprende a tal punto che dopo la guerra scelta di nuova quando il giornale dice adesso l'italia lui dice guardate che l'italia mi cacciano che sanno il freddamento arrivo e mi cacciano i giornali ci siamo in Italia siamo già nel 39 lui viene in Italia infatti gli appoglio viene rimagacciato poi per caso viene l'ambasciatore recupera torna però quando scoppia la guerra degli Stati Uniti Italia c'è l'Italia di Chiara e lui viene arrestato e inclinato Mattius ma Mattius sarà come il quale un altro grande giornalista americano Mattius lo definirà un uomo che ha inventato Fidel Castro perché lui sarà un giornalista che entrerà sulla siena maestra negli anni 50 quando si dava ma Mattius diceva che aveva ucciso Castro lui andrà sulla siena maestra e incontrerà Castro e in tre cele le interviste di Abbazzo due urtani se diranno solo Castro l'hanno ucciso ma starà con ieri con ieri e gli daranno fino a torcere e l'uomo è paradossalmente il giornale che ha esuscitato per Castro e praticamente gli ha dato una risonanza nazionale Mattius è l'uomo che fa questa operazione quindi un giornalista di enorme importanza ma Mattius passa attraverso Witzer la scuola di giornalismo ma soprattutto alla Colombia la scuola italiana italiana e italiana fascistica e così altri giovani giornalisti che passano attraverso la Colombia passa attraverso questa scuola quindi è un binomio molto importante perché si formano il giornalismo fascista il giornalismo americano è simbolizzato del fascismo questi verranno in realtà già simbolizzati dove avviene dove avviene già la fattura in qualche modo fra il regime fascista si fa via verso i soldi del giornalismo americano e il giornalista americano inizia una metà metà la guerra dell'Europa e Mattius è un caso ma molti altri giornalisti che partecipano alla guerra dell'Europa sanno cosa da contare raccontano a me ha stupito tanto che Italia abbia stupito la notizia storica che abbiamo usato dell'Europa ting kapita eh fondatore alla universitaria che